Qui con Matteo Cavallera, uno dei protagonisti di San Sebastiano contro di La Stellone. Un match vinto per 2-0 da voi, ti chiedo, è stata una partita difficile perché comunque nel primo tempo loro non hanno attaccato effettivamente tanto, nel secondo tempo poi sono venuti un pochettino più fuori. Ti chiedo come hai vissuto questo match e come hai vissuto soprattutto gli avversari? Anche se la classifica parla che loro adesso sono un pochino più in basso, però come si è visto oggi non vuol dire niente. Ogni partita, loro sì, è vero, non sono venuti tanti in aree, però hanno un buon palleggio, davanti sono veloci. Abbiamo vinto 2-0, ma abbiamo vinto di larga scala, anche perché oggi comunque il clima si è fatto sentire su questo campo. È andata bene così, è andata bene così. Tra l'altro tu hai anche l'assist sulla 1-0, ti chiedo, hai un grandissimo rapporto con i tuoi compagni, abbiamo visto anche in campo. Questo inizio di stagione sta fortificando il gruppo? Quello sicuramente. Tanti ragazzi erano qua già l'anno scorso. Scorso anno penso che il risultato che abbiamo ottenuto è stato stravitoso, questo ci ha unito tantissimo. Poi si è giunto ancora qualcuno che si è integrato benissimo. Sotto questo aspetto siamo penso una delle migliori squadre nel campionato, far gruppo e tutto. Quindi adesso siamo una squadra al 100%. Ti chiedo ancora questo in vista della Coppa contro l'Albese. Un'andata particolare, difficile, ti chiedo adesso il ritorno, cosa ti aspetti e se ci puntate ovviamente. Ovviamente sì, se no non avrebbero neanche fatto entrare, diciamo, tra parentesi, titolarissimi per pareggiarla gli ultimi minuti in casa. Ci puntiamo sì, speriamo di passare il turno, ovviamente l'avversario sappiamo di che livello è. Quindi andiamo là a giocarcela. Grazie mille. Niente, grazie a te.